Signore, laureato sì, oh mio Signore, laureato sì, oh mio Signore, laureato sì, oh mio Signore. Per tutte le creature, per il sole e per la luna, per le stelle e per il vento, per l'acqua e per il fuoco, laureato sì, oh mio Signore, laureato sì, oh mio Signore. Laudato sì, oh mio Signore, laureato sì, oh mio Signore. Per il sole e per la madre terra, tra l'alimento e ci sostiene, per i frutti, i fiori e l'erba, per i monti e per il mare. Laudato sì, oh mio Signore. Laudato sì, oh mio Signore. Laudato sì, oh mio Signore. Laudato sì, oh mio Signore, laureato sì, oh mio Signore. Laudato 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 sì, oh mio Signore. Signore. Innanzitutto ringrazio i vigili urbani, ringrazio la Croce Verde, ringrazio l'amministrazione per averci aiutato e consentito di poter vivere insieme questo momento che non è facile da organizzare perché stiamo bloccando mezzo a Paggiano per fare questa cosa. Però ecco, l'obiettivo è quello di non è una gara, mi raccomando, avviso a tutti, non è una gara. Il primo che scopra, non è una gara. Il primo che scopra, non è una gara. Perché tanto so che io con la bici. Mi raccomando. Mi raccomando. Mi raccomando. Facciamo un ciugno di cittadini. Buongiorno di cittadini! Buongiorno di cittadini! Puongiorno di cittadini! Pagano cheese Salve Pagano cheese Sindaco siamo pronti per questa passeggiata Una bella passeggiata per la pace Non mi va metterci perché io non le scorse Passo per questo Non mi va metterci perché io non mi va metterci Non mi va metterci Non mi va metterci perché io non mi va metterci Non mi va metterci Grazie! 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 Vai! Vai! Lave a Angela! Grazie! Angela, non frenare, però! Bellissima! Noi, no, dai! Bellissima! Andiamo. Oh, ma qui? Oh, ma qui. Oh, ma qui? Oh, ma qui... Grazie a tutti 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 Grazie a tutti